Buongiorno benvenuto a tutti, sono D'Oresta della Cantina Marenco di Sprevi. Vi aspettiamo lunedì 18 aprile qui in cantina, nella piazza principale del paese, Piazza Vittorio di Noelle 18, dove potrete assaggiare i nostri vini abbinati alle sfiziose focaccine della mitica Proloco di Obrano. Questa è una postazione super, potrete visitare la parte storica della cantina, la baricaia e la sala dell'acidità contadina e soprattutto assaggiare i nostri meravigliosi vini, il Moscato, il Barchetto, il Dolcetto, la Barbera, il Cortese, l'Alba Rossa e il Caricalasino. Sette diverse varietà di uve perché il nostro suolo, che è il fondo di un mare, varia. Camminando tra i vigneti, patrimonio unesto dell'umanità, coltivato in maniera biologica e sostenibile, vedrete terre bianche e terre rosse. E questa diversa varietà di suolo ci consente appunto di produrre così tante uve. Vi aspettiamo numerosi qua in cantina. Grazie. Grazie. Grazie.